La questione del mare, quindi di finalmente liberare il mare, la prossima stagione fare in modo che non ci sia più lavoro nero sulle migliaia di operatori che lavorano lì, che sia fatto un lavoro in trasparenza, visto che chi opera lì guadagna qualche soldino, diamo anche un po' di trasparenza a questo, dissesto idrogeologico di impegnarsi subito per la manutenzione straordinaria della rete che abbiamo, che c'è un secolo, però se non facciamo nemmeno più le manutenzioni rischia di andare. L'altra cosa, credo, è l'abbattimento dell'ufficio tecnico che sta sulla spiaggia, che è un immobile senza valore, fatiscente, fare lì una bella spiaggia libera attrezzata per i disabili e dare un primo segnale, diamo il buon esempio, noi abbiamo una cosa lì, nessuno ci farà ricorso e quindi allestiamo questa spiaggia per i cittadini di Ostia.